Merda! Sono troppo forti! Vi aiuterà il sottoscritto! Servant di classe Arce, re degli eroi, Gilgamesh! Sire! Masha? Sì, sì! Per poter contrastare questa seccatura immensa, servirà il tuo potere. La tua arma nobile placherà il suo spazio in espansione. Così qualcuno potrà darle il colpo di grazia. Andrò io! Per un po' di tempo rimarrà ferma. Utilizza questa. Mira alla testa! Quello è il suo punto debole. Però, Master... Io... Masha, guarda avanti e supera i tuoi limiti. È sufficiente questo. Poi, al resto ci penserò io. Sì! Mi fido di te, Master! Vieni a me! Lord! Kavelot! Pagli. Non posso darmi per vinto! Ilkamesh! A quanto pare ce l'hai fatta, Fujimaru Hizumi. Allora, questo colpo fungerà da rituale d'addio. Ti narrerò dei primordi. Cielo e terra sono separati e il nulla celebra la creazione. Ciò che squarcia il mondo è la mia spada della lacerazione. Questo inferno pone fine alla vigilia della Genesi. Possa tu placarti con la morte! Enuma Elish!